Allora passiamo alla prossima operazione Enrico, sì quarta carta una carta rossa quindi diciamo che sto cercando di dare un po' indicazioni al rialzo e al ribasso in quella strategia diciamo di edging delle strategie che portiamo avanti da diverso tempo in questo caso ho scelto l'SP500 come come indice sul quale andare a posizionarmi al ribasso allora sono stati fatti i nuovi massimi tutto quello che vuoi però io vedo l'indice con un pochettina di debolezza abbiamo avuto comunque delle correzioni quest'oggi è vero è risalito un attimo ma io sono dell'idea che in questa fase ci possa essere un ulteriore ritracciamento che non vuol dire che mi aspetto l'SP500 a 3.000 punti cioè non è che mi aspetto un crollo ma una piccola correzione dopo rimbalzo di oggi secondo me ci può stare tranquillamente quindi la mia idea è che questa strategia a prezzi praticamente attuali possa attivarsi nella giornata di domani e chiudersi nel giro di qualche giorno con un piccolo gain quindi è proprio un'operazione di trading che non ha nulla a che vedere con qualcosa di strutturale a mio avviso quindi vediamo secondo me è importante questa trend line rialzista di lunghissimo periodo perché parte da dei minimi non banali quelli di inizio marzo 2020 ecco finora ha tenuto sempre adesso è crescente la pressione veramente questa è riportata sotto i 4.600 punti appesantisce un po anche le prospettive per il futuro sì guarda io come come livello d'ingresso ho individuato appunto 4.610 ma il target come puoi notare è sopra quella trend line quindi di fatto 4.610 livello d'ingresso 4.635 lo stop loss quindi stiamo parlando veramente di pochi punti target price lo andiamo a mettere a 4.580 punti quindi questa è una scalpata è una scalpata un tentativo di scalpata veloce proprio per andare a prendere il punto mi viene da dire e sì diciamo che manca poco e siamo indietro di una di una sola carta dobbiamo dobbiamo essere vicini con stop e target il rischio è quello di andare a prendere tanti tanti stop loss però dobbiamo dobbiamo rischiare insomma in questa fase visto che abbiamo combattuto tutto l'anno ci divide una sola carta dobbiamo assolutamente cercare di fare tanti più punti possibili insomma